D'esta abbastanza sensazione il comunicato ufficiale della Juventus che celebra i 47 anni di Andrea Agnelli. Una lettera aperta quasi del club al suo ormai ex presidente in cui si continuano a delogiare anni di vittorie, di scelte strategiche, di una lezione e di un esempio che scrive proprio la Juventus, la nuova Juventus, anche se siamo in un periodo di transizione, non disperderemo questo capitale, questa eredità che ha lasciato Andrea Agnelli. Certamente questo colpisce perché il club, non dico che debba prendere le distanze rispetto ad un'inchiesta in cui si sente innocente legittimamente, ma evidentemente anche senza la presidenza di Andrea Agnelli ufficialmente la società Juventus condivide ed elogia il comportamento del presidente che in questo momento viene severamente contestato dalla procura della Repubblica di Torino che addirittura arriva a ipotizzare dei reati molto gravi come le false comunicazioni sociali, addirittura l'aggiotaggio. Ecco, in questo comunicato si vede comunque la contrapposizione netta che rimane tra la proprietà della Juventus, quindi anche John Elkan, il cugino John Elkan, che non dimentichiamolo in base alle intercettazioni era decisamente a conoscenza di quelle che erano le scelte strategiche di Andrea Agnelli, ma la considera una strategia esemplare da tenere presente anche per il futuro. Questo ovviamente scatenerà molte malelingue e commenti malevoli che mi sembrano indispensabili. Ovvero, in questo momento tanto è giusto ricordare che la Juventus non ha fatto ancora nulla per cui sia certamente colpevole, come è giusto però ricordare che le intercettazioni disegnano un quadro per molti aspetti imbarazzante. La Juventus avrà tempo e modo per difendersi, ma lo stesso giudice delle indagini preliminari nel rinvio giudizio riconosce due cose fondamentali, di cui parleremo tra breve. Volevo però concludere il discorso sui 47 anni di Andrea Agnelli auguri, dicendo che probabilmente ecco questo comunicato ufficiale della Juventus di grande elogio per tutto quello che ha fatto Andrea Agnelli rischia in qualche modo di rinfocolare le polemiche che forse in questo periodo sarebbe meglio un po' sopire. Andrea Agnelli ha fatto delle cose fantastiche da Presidente, poi ha preso una parabola improvvisamente negativa nel 2018 quando ha allontanato il suo braccio destro Marotta e da questo punto di vista la spiegazione che è stata unanimemente condivisa era ormai io sono diventato, parliamo del 43enne Andrea Agnelli, sono diventato in grado di camminare con le mie gambe, non voglio più avere l'appoggio e per certi versi anche l'ombra di Marotta, che all'epoca era considerato il vero architetto di questa Juventus, l'architetto nuovo sono io, prendo il testimone di Marotta, più che prendo diciamo caccio Marotta, e porto avanti una politica nuova, innovativa, la Juve ai quarantenni, ve lo ricorderete, ecco questo cambio di passo è stato sicuramente negativo dal punto di vista sportivo, perché la Juventus dal 2018 al 2022 ha vinto enormemente meno rispetto al quadriennio precedente, sicuramente drammatico dal punto di vista della sostenibilità dei costi, la Juventus era un bilancio o in leggero passivo o addirittura in attivo andata in profondissimo rosso, e diciamo anche con delle scelte strategiche che vengono contestate in questo momento dalla magistratura. Su questo argomento volevo però fare un inciso, ecco abbiamo visto e letto di tutto e di più, naturalmente ci sono i filo juventini che dicono siamo vittima di una persecuzione, ci sono gli anti juventini per scelta, quelli secondo cui quando piove è colpa della Juve, che invece dicono la Juventus va radiata, abbiamo già parlato di questo argomento, non voglio tornarci sopra, cioè sull'opportunità o meno di radiare dal calcio un grande club, ho fatto un editoriale che è stato molto visto, da alcuni condiviso, da altri contestato, io rimango della mia opinione, e cioè che il grande calcio professionistico deve riformarsi con delle pene che non arrivino mai alla radiazione, ma non per la Juventus, per i grandi club che sono quelli che poi smuovono l'interesse della gente, ma questo è un argomento come dire più filosofico che giuridico, e quindi lo lasciamo a parte. Volevo entrare però nel merito delle accuse, facendo una considerazione che non tutti hanno fatto, e cioè laddove per lo sciagurato comunicato dei 90 milioni di euro risparmiati c'è una identità di vedute tra il giudice delle indagini preliminari e la procura di Torino, così non è per il momento per le plusvalenze, vi spiego anche la ragione. Intanto per chi non si occupa di questioni giudiziarie, vuoi sapere che una procura raccoglie delle prove, le sottopone al giudice delle indagini preliminari, il quale deve soltanto dire potete andare avanti oppure archivio, potete procedere dagli arresti oppure no, motivandone la ragione. Il giudice delle indagini preliminari di Torino, di fronte alla richiesta della procura, dice sostanzialmente non ci sono dubbi sul fatto che la Juventus abbia commesso un potenziale reato, perché poi sarà un giudice nel dibattimento a decidere se poi questo è reato o meno, ma la procura, dice il giudice delle indagini preliminari, ha perfettamente ragione quando chiede di mandare a processo la Juventus per quello sciagurato comunicato sul taglio delle quattro mensilità e 90 milioni di euro risparmiati nel bilancio 19-20. Dice però il giudice delle indagini preliminari. Per quanto riguarda invece le plusvalenze, dove la procura chiedeva addirittura l'arresto ai domiciliari per Andrea Agnelli e altri due dirigenti, dice Io questo arresto non ve lo concedo per due ragioni. La prima è che non sono del tutto convinto che sia sostenibile l'accusa. Non la nego, però non è così certo che queste plusvalenze siano state fatte in modo artefatto. Potrebbe anche essere dimostrato il contrario. Mentre per quanto riguarda invece la possibilità della reiterazione del reato, mi pare di vedere fin d'ora che la Juventus ha smesso di fare queste plusvalenze e quindi non mi pare opportuno e giusto dare gli arresti domiciliari ad Andrea Agnelli. Vorrei approfondire con voi rapidamente proprio questo aspetto delle plusvalenze. Fate molta attenzione. Le plusvalenze, tutte le volte che si è cercato di incastrare un club, e ve l'abbiamo detto negli anni, ma anche in questi ultimi anni, ci sono state plusvalenze molto sospette. Sono state fatte delle indagini sull'Inter, all'epoca, sul Milan, sul Napoli e su altri club. Si sono tutti fermati perché, dicevano i giudici, rispetto alle considerazioni della procura che indagava, gentili signori, chi è che può dare oggettivamente il valore di un calciatore? È un po' come un francobollo un calciatore, che ha un valore nella misura in cui c'è qualcuno che è interessato ad acquistarlo. Quindi quando questi club dicono, noi abbiamo comprato il tal giocatore della primavera per 5 milioni di euro, diventa quasi impossibile dimostrare la mala fede. Perché? Perché un calciatore che apparentemente vale poco, nel giro di pochissimo tempo potrebbe valere moltissimo, e al contrario, di converso, ci sono calciatori pagati cifre spaventose che poi invece valevano poco o nulla. Chi lo può stabilire in maniera inequivocabile? Nessuno. E quindi questa plusvalenza in qualche modo non può essere contestata. Ecco, da questo punto di vista, le intercettazioni della Juventus, questo dice il giudice delle indagini preliminari, non dimostrano in maniera, al momento, incontrovertibile la mala fede. C'è un forte sospetto, cioè che vengano fatte soltanto per aggiustare il bilancio. Ma nelle intercettazioni, a parte il dire che dobbiamo fare un sacco di plusvalenze perché siamo in rosso, io riassumo quello che hanno detto più o meno tutti gli intercettati, la frase è inequivocabile. Quel giocatore che vale un milione, valutiamolo 5, perché abbiamo bisogno di mettere a posto il bilancio, quello non c'è. Si può evincere, ma c'è il forte rischio, dice il giudice delle indagini preliminari, che nel dibattimento la Juventus possa dire va bene, ma le intercettazioni dicono solo che dovevamo fare le plusvalenze. E qual è la società che non vorrebbe fare plusvalenze? Ecco perché su questo argomento diventa un po' più difficile sostenere l'accusa. Mentre sui 90 milioni, e la Juve potrà inventarsi, io auguro come sempre a tutte le persone che vengono inquisite, di poter dimostrare la propria buona fede, ma sarà molto difficile venirne fuori. La Juventus, certo, dice, ma noi abbiamo detto che sono quattro mensilità, ma se riprendeva il campionato le avremmo in qualche modo restituite, ricontrattando tutto. Benissimo. Però la comunicazione è stata diversa rispetto a quello che è stato fatto. Cioè la Juve ha detto, abbiamo risparmiato quattro mensilità, eventualmente se riprende il campionato ci riuniremo per definire se e come pagarle, in realtà nello stesso momento faceva degli accordi segreti. E qui ci sono, devo dire, anche qui la Juve potrà trovare un modo per difendersi, ma non capisco quale, ci sono le prove che chi è lì dice Allora siamo d'accordo così, a una rinunciamo, le altre tre ce le date dopo. Quindi il comunicato avrebbe dovuto essere. I calciatori rinunciano a una mensilità, le altre tre verranno spalmate negli esercizi successivi. Questo comunicato purtroppo, diciamo, non lo dice. Quindi lì è difficile. È molto più facile il Parlamento di invece dire, benissimo, i nostri dirigenti stavano dicendo dobbiamo fare plus valenza, facciamo plus valenza con Ingeno, facciamone con l'Atalanta, ma che male c'è? Chiunque le vorrebbe fare. L'unica cosa che mi sembra difficile difendere sulle plus valenze sono le cosiddette plus valenze a specchio. Lì è un po' più difficile. Cioè, cosa dice la procura? Dice, va bene, ok, tu hai venduto a 5 milioni di euro un giovane della primavera che probabilmente non gli valeva. Però chi è che lo può dimostrare? E dove si sono fermate tutte le procure? E anche nelle intercettazioni non c'è nessuno che dice questo ne vale uno, ma diamolo a cinque. Non c'è. Quindi diventa un po' difficile. Un pochino più complicato probabilmente sarà spiegare la plus valenza a specchio. Cioè, se io con il Genoa prendo tre giocatori miei e li valuto 5 milioni e il Genoa me ne dà a sua volta tre valutando di 5 milioni proprio la stessa cifra, stessi giocatori, ci vuole una forza di volontà notevole per convincersi che in realtà non sia un gioco di bilancio. Anche da questo punto di vista, però non possiamo negare che altri club inquisiti proprio per la stessa situazione, cioè in croce a specchio, sono stati poi alla fine considerati neanche meritevoli di andare poi al dibattimento. Ecco perché dico, attenzione, più che sulle plus valenze il vero rischio penale è in qualche modo sportivo, ma torniamo a dire, da questo punto di vista stiamo parlando del differimento di stipendi della Juventus sta nello sciagurato comunicato dei 90 milioni di euro risparmiati. Detto tutto questo, mi pare piuttosto evidente che anche nella peggiore delle ipotesi la Juventus verrà penalizzata quando si parla di sanzioni enormi nei confronti della Juventus che tra parentesi coinvolgerebbero di converso. Non ci sono possibilità. Numerose altri club di Serie A credo che si stia andando molto oltre e si stia manifestando più l'auspicio magari di chi ti fa contro, di chi valuta serenamente una situazione che comunque è molto complicata che che ne dica l'encomiastico comunicato di oggi dalla Juventus per i 47 anni di Andrea Nelli al quale comunque facciamo i migliori auguri. Grazie.